La mostra si inaugura nelle sale di Piazza San Marco, presso Bevilacqua La Masa, e riguarda il premio Burano e la scuola di Burano, che nacque circa 40 anni prima. Ulteriormente questa duplice mostra è corredata da un'antologia di pittura, di paesaggio, di arte veneta soprattutto, che riguarda la prima metà del XX secolo. Non si contano le opere degli artisti premiati quanto il loro contesto e i loro rapporti artistici tra loro. Il premio Burano, qui dove ci troviamo, sono raccontate le quattro andate storiche del premio, dal 1946 al 1956. Invece la scuola che precede di 40 anni fioriva a partire dal 1910 e vedeva gli artisti Umberto Moggioli, Gino Rossi, Luigi Skopinic e Pio Semeghini. Pio Semeghini è anche l'artista che ha trascinato la scuola di Burano nel secondo dopoguerra fino agli anni del premio, che appunto nascono come rinascita di Venezia nel 1946, dopo che la città era rimasta quasi indenne dalle distruzioni della Seconda Guerra Mondiale. Grazie per la visione! Grazie per la visione!